Benvenuti alla boutique dell'intimo, qui troverete una selezione di intimo per tutta la famiglia, dai reggiseni comodi e alla moda, agli slip eleganti e tutto quello di cui avete bisogno per sentirvi sicuri e belli sotto i vostri vestiti. Marzia sarà felice di assistervi nella scelta dei migliori articoli che si adattano al vostro stile e alle vostre esigenze. Vi aspettiamo in via nazionale 60, a Villa Grazia di Carini. La boutique dell'intimo vi farà sentire straordinariamente speciali. Il nostro negozio di intimo è qui per rendere ogni momento indimenticabile. Seguici sui social e metti like alla nostra pagina. Tantissime offerte ti aspettano.